Ben trovati, momento molto triste, molto drammatico, momento di cui non avevamo mai voluto parlare. La triste notizia è arrivata stamattina con il giorno della Befana ed è stata una notizia, devo ammetterlo, molto delicata. Mi è trovato spiazzato perché personalmente non mi aspettavo più, nonostante le notizie così drammatiche che arrivavano da Lundra, che Gianluca Vialli se ne andasse. Vi dico subito che per me Vialli è stato uno dei campioni più importanti che ha avuto la Juventus, è uno di quelli che personalmente ho amato di più. E posso farvi la classifica di coloro che io ho adorato, anche se la parola è troppo grande perché l'adorazione, come sapete, è soltanto per Dio. Dico, diciamo venerato, che ho stimato i miei grandi idoli. Tra i miei grandi idoli c'è appunto Vialli. Ho amato Vialli in una maniera incredibile. L'ho amato in silenzio e soprattutto anche con grande affetto quando giocavo con la Juventus. Perché ci sono dei motivi chiarissimi per i quali ho amato Gianluca Vialli. Intanto voglio ricordarvi, perché l'ho detto in pochi, che Vialli è l'unico calciatore italiano ad aver fatto il triplete. La Juventus è l'unica squadra italiana ad aver fatto il triplete. Perché il triplete è certificato dall'UEFA per le squadre che vincono tutte e tre le competizioni europee. Quindi la Juventus è stata la prima squadra italiana, anzi europea, a vincere il triplete. Coppa UEFA, Coppa delle Coppe e Coppa dei Campioni. Gianluca Vialli è stato l'unico calciatore italiano a vincere il triplete. Coppa delle Coppe con la Sampdoria. Coppa UEFA con la Juventus. Coppa dei Campioni con la Juventus. E' solo un dettaglio della grandezza dell'uomo. Ma non lo diciamo per retorica o per dietrologia, luoghi comuni che potrebbero in questo caso essere evidenti anche nelle mie parole e in tutte le parole che in queste ore vi stanno inondando. Gianluca Vialli è stato unico nel suo genere. Quello che ricordo molto da vicino di Gianluca Vialli e ce l'ho qua impresso e mai se n'è andato è il 25 aprile del 1995. Dice ma che data è? E' una data particolare quella lì. la Juventus non vinceva lo scudetto da ben nove anni. E' in quella data nel Duomo di San Matteo a Salerno tutta la Juventus, tutta, nessun giocatore escluso, con tutta la dirigenza, Moggi, Giraudo e Bettega, erano lì, nel Duomo di Salerno, ai funerali di Andrea Fortunato. E il più commosso, e il più nervoso, e il più addolorato tra tutti quanti era proprio Vialli. Alla fine della messa il commiato fu detto proprio da Vialli, il quale prese la parola credo che su YouTube ci sia ancora da qualche parte e fece un discorso nel Duomo di San Matteo strappalacrime lo avevo già amato Vialli dalla Sampdoria, lo dico la verità ma in quel momento il mio amore nei confronti di Vialli campione, uomo, uomo di sport è accresciuto tantissimo sì, il 25 aprile del 95 proprio quel giorno ero inviato nel Duomo di San Matteo il telegiornale ma se non fossi stato inviato ci sarei andato comunque perché diciamo l'evento, quell'evento era troppo doloroso e purtroppo troppo grande per viverlo in maniera diciamo sottotono tutta la Juventus quella Juventus che un mese dopo dopo nove anni di astinenza avrebbe vinto lo Scudetto era la Juve di Lippi di Davadelli di Davadelli di Del Piero anche di Baggio di Antonio Conte di Peruzzi e di tanti altri campioni ma era soprattutto il primo Scudetto dell'era di Lippi di Moggi, Giraudi e Bettega anche se fortunato aveva fatto parte con Vialli dell'ultima Juventus Bonipertiana sì, è lì che ho cominciato ad amare in maniera spassionata Gianluca Vialli l'ho sempre seguito l'ho sempre venerato un po' di delusione devo ammettere per la mia contrarietà alla nazionale l'ho avuto quando Gianluca Vialli è stato chiamato da Mancini a collaborare con la nazionale poi mi sono reso conto perché Mancini lo aveva chiamato io non ho nessuna stima di Mancini ve lo dico apertamente uno che nei confronti della Juventus ha usato parole di fuoco uno che si freggia di essersi messo qui al petto uno Scudetto di cartone ma non è il momento delle polemiche proprio perché lo aveva chiamato Mancini però era il suo amico del cuore diciamo la verità io mi sono un attimino raffreddato però Vialli era Vialli è Vialli un grande uomo un super campione un campionissimo e sì per me è nella lista dei giocatori che ho amato di più che di qui a poco mi interessano vi dico il giocatore che io ho più amato nella Juventus è Michel Platini io li ho amati quasi tutti però quelli che più ho amato è stato Michel Platini che secondo me al mondo è secondo solo a Maradona superiore a Pelé a Craiff a Rivelino a Romenic a Van Basten a Careca a Sivori ai grandi della storia Platini dopo Maradona in senso assoluto è stato il numero due poi tutti gli anni ma questi erano campioni che potevano a parte Maradona potevano essere a periodo chi prima chi dopo sempre tra i migliori al mondo Maradona non si discute io ho amato Maradona lo amo per me è stato il calcio è stato tutto a me nella vita privata di Maradona non mi interessa ma per come la penso io Maradona anche nella sconquassata vita privata ci ha dato delle indicazioni delle intuizioni delle cose importanti anche quando dicono sia stato di cattivo esempio io di Maradona ho una grandissima considerazione non la dico adesso magari qualche volta ve la dirò perché ritengo io da cattolico che Maradona sia stata un'espressione particolare sulla terra ma lasciamo stare in questo momento questo dal punto di vista positivo dicevo Platini poi ho amato Bettega poi ho amato Cucurendo ho amato ho amato Zoff ho amato Del Piero e ho amato Vialle questi sono stati i miei miti della Juventus poi ce ne sono stati tanti altri però come calciatori questi sono stati coloro che ho seguito cioè che quando i cronisti li nominavano il cuore batteva gli miei idoli Vialli e tra i miei idoli oggi se ne va un grande idolo mio per quanto mi riguarda noi spesso abbiamo parlato del dopo calciopoli giustamente però io vi ricordo che la Juventus del dopo calciopoli è stata senza vincere lo scudetto 4-5 anni se non mi sbaglio l'ultimo scudetto 2005-2006 poi la Juve l'ha rivinto nel 2012 quindi 6 anni compreso l'anno di serie B e il ritorno quindi sono passati 6 anni quando è arrivato Vialli la Juve non vinceva lo scudetto da ben 6 anni e dopo 9 anni ha rivinto lo scudetto o meglio dopo 8 anni del suo arrivo ma c'è di più la Juventus non vinceva lo scudetto o meglio la Coppa dei Campioni dal 95 scusate dall'85 e dall'85 al 96 quanti anni sono passati 11 anni dopo 11 anni la Juventus con Vialli vinse la Coppa dei Campioni ma non fu la Juventus di Del Piero di Baggio per quando abbiamo considerato Del Piero determinante per la Champions League e per quel periodo di grande vittoria lì il grande trascinatore era Gianluca Vialli era un trascinatore vero non solo come calciatore in sé per sé ma soprattutto come trascinatore come cambio di mentalità e su questo Vialli aveva emulato Michel Platini molti di voi ricorderanno la Juventus prima di Platini con otto campioni del mondo e la Juventus con Platini con gli otto campioni del mondo senza Platini la Juventus usciva delle Coppe si vinceva uno scudetto di intermittenza con Platini cambia la mentalità 21 partite senza perdere in Europa vince Coppa delle Coppe Coppa dei Campioni scudetti c'è il cambio di mentalità il cambio di filosofia che Platini aveva dato alla Juventus Vialli lo aveva dato alla Juventus perché erano anni bui in cui il Milan imperversava in cui il berlusconismo anche nel calcio imperversava vinceva Vialli venne alla Juve primo anno Coppa UEFA terzo anno scudetto e Coppa dei Campioni cioè ci troviamo di fronte ad un giocatore che Trapattoni stava distruggendo ricordiamolo questo Trapattoni non vive giorni importanti nemmeno lui questo grande personaggio del calcio lo mise addirittura a centrocampo per un periodo fece un esperimento fece giocare Vialli centrocampista Vialli invece dopo ci giocò si piegò a questo dopo aver vinto la Coppa delle Coppe aver fatto la finale di Coppa dei Campioni con la Sampdoria aver dato lo scudetto alla Sampdoria trascinandola insieme con Mancini nell'elite del calcio europeo Trapattoni lo mette a centrocampo e Gianluca Vialli con la sua filosofia con la sua spettacolarità di uomo non si arrabbia retrocede a centrocampo ma riconquista il posto d'attaccante e vince tutto con la Juve perché Vialli era questo ma c'è una coincidenza che non mi dà pace qual è la coincidenza la Juventus gioca a Cremona il 4 gennaio Cremona era la città di Vialli a Cremona Vialli con la Juventus aveva segnato uno dei gol più belli della sua carriera inrovesciata proprio nella sua Cremona da dove è partito il 6 gennaio nemmeno il tempo di che si si riaffreddassero i motori della partita cremonese Juventus per come è andata vinta con una botta di fortuna di culo dalla Juventus muore Vialli il cremonese doc il cremonese più cresciuto più amato nel mondo più conosciuto nel mondo Gianluca Vialli e la Juventus è l'ultima squadra che ha giocato a Cremona prima della sua morte è una coincidenza che può non dire nulla ma può dire tutto di quando sia stato importante questo calciatore per la Juventus perché non lo fu importante per le vittorie in sé per sé nel contributo alle vittorie ma per la grande rinascita per la trasformazione dal calcio antico a calcio moderno al quale la Juventus non si era adeguata e non a caso che nella perestroica della Triade non fu Baggio licenziato dopo un anno dell'arrivo della Triade fu Vialli il grande traghettatore tra l'era bonipertiana e l'era umpertiana della Triade ecco perché Vialli mi è rimasto nel cuore ecco perché ho amato Vialli io ho amato nella Juventus i campioni che hanno trasformato le epoche Pratini trasforma una Juve italiana in una Juve europea Vialli trasforma una Juve perdente ancora legata alla prima repubblica del calcio ad una Juve vincente con la sua mentalità non a caso Lippi gli mette la fascia da capitano e lo invita a riportare la Juve in avanti questo grande traghettatore io ho avuto due grandi momenti di sconforto anzi tre grandi momenti di sconforto lo dico la verità nell'epopea Juventus dal mio punto di vista il giorno in cui con il Brescia all'improvviso Platini disse addio al calcio quel giorno quel giorno di maggio piovoso ho pianto non ho vergogna dirlo quando Platini ha dato l'addio al calcio ho pianto per me Platini è stato tutto è stata l'immensità è stata l'apertura del cuore verso il calcio per me Platini è stato il calcio un altro momento di sconforto l'ho avuto quando Vialli ha annunciato che se ne andava dalla Juventus perché mi mancavano quei punti di riferimento mi mancavano quelle quel leader quel trascinatore e poi un altro di sconforto lo ebbi quando con Bolli Gigli ma questo è altro è altro momento Bolli Gigli senza in un deserto venne nominato presidente di una Juventus in Serie B però questo è acqua passata anche se il camionato più bello che ho visto e che ho seguito con più animosità è stato proprio quello di Serie B perché è come quando un tuo figlio viene pulito con un'ingiustizia e deve recuperare ed è stato il momento in cui io mi sono sentito più vicino alla Juventus è stata quella ma è una mia considerazione ecco perché ecco l'importanza di Bolli della Juventus un'importanza intellettuale un'importanza storica in quel momento Bolli è stato il tradunione tra la vecchia gestione e l'epopea della Triede vincente e poi devo dire la verità mi piaceva più nella Juventus che nella Sampdoria perché nella Sampdoria era leader sì era era pimpante bello giovane veloce agile nella Juventus era campione già fatto la Juve lo acquista da campione da vincente e lo mette lì davanti gli dà anche nei momenti di difficoltà quando Travatore poi come vi dicevo in precedenza lo mise dietro lui lui poteva arrendersi diceva che sto a fine carriera cioè Travatore mi boccia invece ricordo il modo con il quale con la grande cavalleria che poi lo ha sempre contraddistinto lui tornò a guidare la Juventus ad essere frontman ad essere l'attaccante ad essere il punto di riferimento cioè quello che non seppe fare Roberto Baggio lo fece Vialli perché Roberto Baggio aveva la giocatina aveva il tocco di classe ma era fine a se stesso un po' come l'ultimo Zidà Vialli no Vialli che era decisamente e tecnicamente inferiore a Baggio lo era superiore nella statura del campione Vialli è stato un campione per questo motivo è stato un campione Vialli è stato un campione perché ha saputo trasformare le epoche ha saputo dare del tu al reinserimento delle proprie squadre lo ha fatto con la Sampdoria anche se lì era collaborato da Mancini da Boscov e da una serie di campioni che costituivano un asse importante però pensate alla Sampdoria Coppa delle Coppe finalista di Champions vince lo Scudetto cioè quale trasformazione epocale alla Juve traghetta vecchio calcio verso il nuovo rimane un personaggio topico anche della Triade che gli affida la fascia e poi dopo aver fatto queste due grandi aver costruito questi due grandi crattacieli con la Sampdoria e con la Juventus la prende da nove anni senza vincere lo Scudetto da sei anni all'ottavo al nonno glielo fa vincere poi vince la Coppa dei Campioni e poi va al Chelsea a Londra dove inventa decisamente il Chelsea ne diventa calciatore ne diventa calciatore allenatore ne diventa allenatore leader a Londra e oggi il Chelsea è una delle scuole più affermate in Europa ma è un'invenzione di Vialli spesso e volentieri si è soffermati soprattutto sulla frigolezza simpatica di Vialli ma la statura dell'uomo la personalità del campione probabilmente tra i primi sotto questo aspetto dell'intero calcio italiano non è facile portare la San Bedore a quei livelli non è facile portare la Juve da nove anni di insuccessi allo Scudetto e alla Champions League e non è facile inventarsi un club a Londra in Inghilterra nella Premier League dove hanno inventato il calcio signori questo è Gianluca Vialli un uomo che è nella storia un uomo che non finiremo mai di amare ma non perché oggi è morto ma perché ci ha insegnato con la sua con la sua immagine anche nel dolore della malattia quando si è grandi si è un grande e non è un caso che è morto a pochi giorni di distanza da Pelé per carità è nessun paragone con grandissimo stratosferico Pelé per carità ma l'importanza del calcio italiano da parte di Vialli la leggerete sui libri di storia calcistica del calcio italiano Vialli è stato un eterno innovatore è stato uno che ha fatto ragionare il cervello è stato un uomo grande e io credo che calciatori dirigenti presidenti tifosi giornalisti e tutto il sistema che regge il calcio italiano e non solo quello italiano debbano tenere presente la storia di Vialli perché è una storia formativa è una storia da prendere da esempio è una storia da tentare l'emulazione questo è stato Gianluca Vialli questo è Vialli questo sarà e io credo che proprio oggi quando ho letto la frase unica con la quale la Juventus ha salutato il suo campione intanto ho avuto conferma della grandezza della Juventus e di questa squadra messa in croce a tutti i livelli dagli avversari e in ogni tipo di situazione ho avuto conferma del fatto che è la più grande qual è la frase con la quale la Juventus oggi ha salutato l'addio di Vialli una frase storica una frase che io metterei sullo stadium di te abbiamo amato tutto a l'addio di Vialli